ciao benvenuto a questa prima video recensione dove ti presento le novità di Netflix l'altro ieri ti ho annunciato che Netflix ha introdotto delle importanti novità tra cui appunto l'anagrafica unica e ovviamente la sezione pagamento telemagico finalmente adesso è possibile in Netflix fare il pagamento del contributo unificato all'interno senza dover utilizzare dei servizi esterni appunto come facciamo a capire se abbiamo la versione aggiornata di Netflix entrando all'interno della nostra distribuzione che troveremo l'indirizzo in alto nel browser la prima voce non sarà più pratica ma anagrafiche e tutte le anagrafiche di Netflix sia clienti controparti colleghi e colleghi di controparti sono stati uniti in un'unica sezione apposita dove è tutto quanto più stato tutto più semplificato e c'è la possibilità anche di caricare i documenti di identità o i vari documenti associati ai nostri clienti infatti vi faccio vedere nella sezione pratiche se dobbiamo inserire un nuovo cliente entriamo nella sezione soggetti e selezioneremo anagrafiche noterei subito che qui sono riportati tutte quante le anagrafiche già presenti non è adesso ancora non è più possibile inserire un nuovo soggetto all'interno della pratica quindi lo dobbiamo prima caricare nella sezione anagrafiche e poi successivamente ce lo troveremo qui e basta selezionarlo infatti vi faccio vedere ci vediamo qui entriamo nella sezione anagrafiche immaginiamo di dover inserire un nuovo soggetto entrando qui troveremo un nuovo anagrafica e qui in base alla tipologia l'anagrafica si adeguerà e noi possiamo inserire i campi richiesti c'è anche il codice per la fattura elettronica le varie note e altre cose c'è la possibilità anche come ti ho detto prima di caricare anche i documenti di identità del cliente stesso ok adesso ti faccio vedere la seconda novità entro sempre in questa pratica fittizia che ho creato la seconda novità quella più importante e di maggiore interesse è proprio il pagamento telematico come si effetta il pagamento telematico? vedi sotto la voce deposito telematico troveremo adesso la nuova voce pagamento telematico quindi il versamento del pagamento telematico va fatto prima del deposito quindi la procedura è questa entriamo nella sezione anagrafiche inseriamo le anagrafiche di cliente e controvarti apriamo poi nella sezione pratiche una nuova pratica all'interno di questa nuova pratica inseriremo caricheremo i documenti poi effettueremo il pagamento telematico sulla base dei dati già preinseriti nella sezione pratica e poi dopo la volta che avremo poi inserito anche la ricevuta che abbiamo generato all'interno di netflix effettueremo il deposito telematico clicco quindi pagamento telematico nuovo effetto qui come succede nel deposito telematico nuovo pagamento vedi qui richiama anche lo stesso schema che viene già utilizzato nel deposito telematico e nelle notifiche telematiche se vedo tutto quanto bianco posso procedere sì ho verificato procedo al pagamento vedi e qua mi troverà i dati preinseriti, precaricati l'aturità di destinazione ovviamente chi dispone il pagamento la tipologia quindi il contributo unificato e i diritti di cancelleria la marca da 27 o diritti di copia se dobbiamo versare i diritti di copia inseriamo quindi l'importo del contributo unificato adesso faccio una simulazione dico 139 metto la marca da 27 ti ricordo sempre di inserire non la virgola ma il punto ok e la causale qui ovviamente adesso troverai queste y e queste x queste sono dei dati dei finti codici fiscali che ho caricato io ma puoi adeguare il testo mettendo pippo contro qui ecco c'è una barra spazzatrice là io ti consiglio di mettere il trattino perché la barra spazzatrice ha un carattere speciale che potrebbe creare dei problemi ho segnalato già a Netflix di modificare questo assetto qua e qui in aggiunta sempre con spazio e dopo trattino alto spazio potremo inserire anche del testo aggiuntivo descrizione descrizione a ruolo ok poi procederemo adesso all'autenticazione che può essere fatto tramite firma remota o dispositivo di firma ok primo firma remota cliccando su effetto a pagamento ti genera appunto il compare la schermata dove viene generato l'OTP inserisci l'OTP Netflix poi ti reindirizza sul portale pago.pa là ti viene richiesta soltanto una semplice mail per per loggarti all'interno del portale pago.pa perché l'autenticazione forte viene fatta già da Netflix e con la stessa mail è l'indirizzo dove ti sarà recapitato l'indirizzo le ricevute sia in file XML sia in file PDF adesso io ancora non ho provato non so se anche qui all'interno di questa schermata una volta effettuato il pagamento le troverai qua comunque ti arriveranno via mail una delle domande che mi è stata posta quale delle due ricevute devo allegare per fare il pagamento il depasito telematico quindi nel caso specifico un'iscrizione al ruolo io ti consiglio di mettere entrambe sia il file XML sia il file PDF l'XML per il sistema informato del Ministero della Giustizia che essendo un dato poiché è un dato strutturato un dato macchina viene letto in automatico proprio dagli esiti dei controlli automatici l'avvenuto versamento del pagamento delle matri il PDF serve per la cancelleria per dare la prova effettiva dell'avvenuto pagamento che già sistema comunque risulta questo è quanto fammi sapere se intanto ti è piaciuto questo piccolo video format questa video recensione di queste piccole novità ho intenzione di farne altre se ti piace anzi mi farebbe piacere condividere se tu mi condividessi un piccolo feedback infatti adesso te lo condivido sul canale Whatsapp e allego anche un piccolo sondaggio mi farebbe piacere che anche rispondessi a questo piccolo sondaggio le risposte è molto semplice basta mettere delle emoticon in base alle varie scelte ok spero che ti sia stato d'aiuto e ti ringrazio buona serata